Siamo in questo canteggio di Cecina e purtroppo abbiamo trovato un calabrese. Cosa ci dice? Eh ma in Santorocco qua i calabresi siamo pochi perché effettivamente ci stanno tanti i germani, i anace, ci sono gli austriaci e ci stiamo divertendo quasi amici. E cosa fate? Ma si gioca a beach ball, si fa karaoke, si fa anche tanto sport acquatici, tipo il nuoto simpronizzato, si fa le gare di nuoto, l'acqua gimbi, si fa molto bello, è un posto veramente che si puoi divertire, si puoi portare tutta la famiglia, la sagra famiglia. Ma come si mangia? Si mangia di merda perché ci hanno un po' orate, branzini, invece non c'è la calabria, ci mangiamo sempre anduia, a carrenta, a partatezza e sono pranzi che a noi ci fanno un po' ci di coglioni. Ma perché non vi piacciono le brioche al mattino col cappuccino da voi? Cosa usate? Come colazione al mattino? Noi come colazione molto naturalmente mangiamo naturalmente anduia, a partita di cante, a coppa, a soppressata, a soppressata di canne. Ah ecco, a che torneo ha partecipato? Ma io ho già partecipato al torneo di briscola, saltofosso e mangiato anduia in fretta in fretta. Poi l'ho vinto, sono cintura nera e qui del torneo. Vabbè, grazie, buonasera. Prego, mi saluti tanta la famiglia, se ce la trovo ancora a casa e quando ci torno.